E' partito con la proiezione del film Young Europe presso il cinema Lux di Pistoia, l'iniziativa organizzata dalla Polizia di Stato nell'ambito del progetto Icaro sulla sicurezza stradale che in tutta Italia coinvolge oltre 50.000 ragazzi. A Pistoia hanno preso parte circa 300 fra studenti e docenti delle scuole superiori, il Liceo Classico Forteguerri, il Liceo Scientifico Duca d'Aosta, il Liceo Scientifico delle Suore Mantellate, l'Istituto Tecnico Fedi Fermi, l'Istituto Pacinotti, l'Istituto Alberghiero di Montecatini e l'Istituto Sismondi di Pescia. Il progetto Icaro è una campagna di sicurezza stradale rivolta ai giovani e promossa dalla Polstrada con i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Istruzione e la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale con il coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Università di Roma e la collaborazione del MOIGE, il Movimento Italiano Genitori. Purtroppo i ragazzi sono vittime di incidenti stradali, l'incidente è la prima causa di mortalità tra i giovani. Volevamo sperimentare un linguaggio attraverso il film che li emozionasse, che cercasse di arrivare alla loro testa attraverso il loro cuore. Ormai sono anni che abbiamo iniziato questo tipo di campagne. Riteniamo che parlare con i giovani attraverso un linguaggio che metta a nudo quello che veramente vogliamo raggiungere, ovvero che loro evitino i rischi sia molto più importante dei controlli e delle sanzioni. Il film, diretto da Matteo Vicino, di forte impatto emozionale, è stato cofinanziato dalla Commissione Europea ed è stato girato tra Italia, Francia, Irlanda e Slovenia e parla della storia di alcuni ragazzi accomunati dall'esperienza di un incidente stradale che cambia le loro vite. Dopo la proiezione, riaccese le luci, si è animato il dibattito moderato dal direttore di TVL Luigi Bardelli che ha coinvolto gli stessi studenti, il personale della polizia e le istituzioni. La distrazione alla guida e il non rispetto delle regole di precedenza è tra le infrazioni che più determinano incidenti stradali. La velocità e l'alcol ne aggravano la conseguenza determinando la mortalità. Ci sarà un momento in cui saranno una minima parte rispetto a quello che è attualmente i dati che vengono di cui... Noi lottiamo per quello. Nei dieci anni che ci hanno preceduto siamo riusciti ad abattere del 50% l'infortunistica. Non dico miriamo ad azzerarla, ma nel nostro cuore c'è questa speranza.